Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Buonasera, desidero condividere un momento di preghiera con voi. Mi trovo qui nella cappella dell'Istituto dei Tumori di Milano e penso a tutti coloro che qui sono ricoverati. Quindi penso soprattutto ai bambini, ai malati, ai ragazzi e a tutti i ricoverati, i pazienti e a tutti i medici, a tutto il personale, gli infermieri, gli operatori dell'ospedale. Ecco, vogliamo pregare anche per loro. Oggi ricorre la memoria della Beata Maria Anna Sala, una suora marcellina che si è dedicata all'educazione delle ragazze, in modo tale da essere riconosciuta eccellente, santa, beata. Vorrei pregare con la preghiera del giovedì, che io raccomando a tutti i ragazzi che incontro. Maestro, dimmi la verità della vita. La verità prima della vita è questa. La tua vita è benedetta da Dio. E la verità seconda è questa. Tu vivi per essere una benedizione per tutti quelli che ti incontrano. Maestro, insegnami a pregare. Tu prega così. Padre nostro che sei nei cieli. Padre, sia santificato il tuo nome. Padre, venga il tuo regno. Padre, sia fatta la tua volontà. Padre, maestro, dimmi che cosa devo fare. Non perdere oggi l'occasione per amare. Non lasciare che nessuno vada via da te senza un sorriso. Non sottovalutarti mai. Sei fatto ad immagine di Dio. Non dimenticarti mai della tua vocazione ad essere felice. Preghiamo per le vocazioni. In particolare vi suggerisco di pregare con la preghiera che i candidati a diventare preti nel 2023 propongono a tutta la diocesi. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, rendi questi nostri fratelli veri strumenti della tua pace, l'unica che sazia il nostro cuore, affinché si compia il desiderio di Dio. Pace in terra agli uomini che egli ama. E preghiamo per la pace, soprattutto la riconciliazione in Ruanda, paese dell'Africa pieno di guerriglia e erede di una situazione complessa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Invoco per tutti voi e per tutti quelli che amate la benedizione del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.